Autobus a capienza di mezzata, obbligo di mascherina, conducenti autorizzati anche a non partire nel caso in cui qualcuno contravenga le regole. I trasporti pubblici si attrezzano per la fase 2 ai tempi del coronavirus. Le aziende non si sono mai fermati a dire il vero, ma oggi complici le restrizioni per la sicurezza di autisti e passeggeri. Sono costretti a rimodulare l'organizzazione del trasporto e quasi certamente a potenziare alcune corse, soprattutto negli orari di punta. Ne abbiamo parlato con Francesco Damato del Dipartimento regionale Will Trasporti Campania. Dalla prima fase c'è stata una sospensione di circa il 50% dei servizi, garantendo però il servizio di trasporto pubblico che è previsto dalla Costituzione. Durante la prima fase i viaggiatori sono stati pochi. Adesso con l'avvento della nuova fase ci siamo cercati di riportare ai dettami nazionali dei vari DPCM per garantire la sicurezza ai conducenti e ai viaggiatori. Come lei ha fatto nelle riprese, ha visto già la sistemazione su questi bus dei servizi, dei posti occupati lasciandone qualcuno libero in modo da non avere un contatto diretto. Quello che stiamo verificando e che sta mancando è l'ausilio dei verificatori che sono tutti ancora in cassa integrazione. Riteniamo che per un migliore servizio all'utenza e agli autisti, nel caso ci sia una ripresa del trasporto pubblico locale come prima, per evitare che i conducenti abbiano dei litigi con i viaggiatori perché con i posti che sono delimitati non tutti possono salire. Arrivati a circa 20-25 persone l'autista è obbligato a passare oltre, a lasciare le persone a piedi. Pertanto siamo già con l'azienda a verificare la necessità di aggiungere altri mezzi sulle varie corse dove tipo la Otto, la Salerno Battipaglia, la Siano, la Pompei, dove aspettiamo che ci sia un maggiore flusso di viaggiatori. Lo stesso problema si ha anche con le altre aziende di trasporto pubblico di tutta la provincia di Salerno. Ci mettiamo la massima attenzione, stiamo cercando di chiamare tutti i delegati per avere maggiori informazioni sui territori per capire anche cosa succederà. L'obbligo nazionale è quello che i viaggiatori devono essere muniti di mascherina, obbligatoriamente, altrimenti l'autista può anche non avviarsi proprio per rispettare sia la sua sicurezza che quella degli altri utenti. Allora, per quanto riguarda il pagamento del ticket, si sta provvedendo con chi ha già delle piattaforme elettroniche per l'acquisto online. Poi se c'è qualcuno di buona volontà che sale o lo scrive a penna è tanto di guadagnato perché le aziende in questo momento stanno anche perdendo un po' di incassi dovuti alla vendita dei biglietti. Però crediamo che in un prossimo futuro, già dall'altro lunedì o dopo il 18, ci sia una maggiore affluenza perché con l'apertura di tutte le aziende, tutte le fabbriche, è normale che i viaggiatori devono aumentare. C'è bisogno di più mezzi e più autisti, almeno negli orari di punta. Poi bisogna organizzarsi con le aziende e vedere come meglio mettere su strada queste vetture. Perché se l'utenza rientra come era prima della fase, avremo dei grossi problemi perché se lei è salernitano e vedeva passare questi mezzi con circa 80-100 persone a bordo, creerà qualche problema. Fino a che c'è un limite di numeri, le persone invece di sedersi possono stare anche in piedi. L'importante è mantenere la distanza di quel metro che è così declamato da tutti. Siamo intorno ai 24-25 unità, questo è un 12 metri? 25 metri prima ne avrebbe potuto portare? Eh sì, siamo 37 a sedere, 61 in piedi. Abbiamo delle tabelle di riferimento.